La paraccia di questa settimana, Re'e, parla di tzedakah, spesso tradotto come carità. Cito Se vi sarà presso di te qualche tuo fratello bisognoso, in una delle tue città, nel tuo paese che il Signore tuo zio ti dà, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti a lui. Anzi, gli aprirai sicuramente la mano e gli presterai tutto quel che gli manca, qualsiasi cosa gli manchi. Dei mahsorò asher jahsar lo Quindi, si dovrebbe dare a un povero Dei mahsorò, tutto ciò che gli manca. Cosa significa questo? Se è un re in esilio, dovremmo sostenerlo in sile regale? E se a noi stessi mancasse ciò a cui siamo abituati, c'è forse un limite superiore per la carità? Se è così, che cos'è? Rivediamo le regole ebraiche della carità, come esposte nel Talmud, prima di provare a rispondere a queste domande. In primo luogo, ogni ebreo è obbligato a dare la carità, anche uno che dipende lui stesso dalla carità. Dopo tutto, si può sempre trovare qualcuno che sta peggio di noi. La norma è circa il 10% del reggito netto, dopo le tasse. Si chiama la decima. Il minimo è di circa 2 euro all'anno. Il Midrash dice che dare ai poveri è un comandamento che è nell'interesse di quello che dà, più che di quello che riceve. C'è una leggenda che afferma che il profeta Elia a volte appare a un uomo morente sotto le spoglie di un povero in cerca di carità, per dargli un'ultima possibilità di osservare la mitzvah. Il Talmud aggiunge, in sile iperbolico, la tzedakah è importante quanto tutti gli altri comandamenti messi insieme. Non dare la tzedakah equivale all'idolatria. Se ti rifiuti di dare, o dai meno di quanto potresti, il tribunale può valutare un importo e prenderlo per forza. La carità deve essere data ai poveri non ebrei. La Mishnah dice «Ai poveri tra i non ebrei non si può impedire di raccogliere spigolature, covoni dimenticati e l'angolo del campo, nell'interesse della pace». Infatti, uno studio del 2003 ha trovato che solo il 6% dei grandi doni di filantropi ebrei, ovvero doni superiori a 10 milioni di dollari, va a istituzioni ebraiche. La maggior parte delle donazioni ebraiche, il 94%, va a scuole, università, enti di beneficenza legati alla salute, l'arte, la cultura e altre cose. Gli ebrei non dovrebbero accettare carità dai non ebrei a meno che non sia assolutamente inevitabile, in modo di dare agli ebrei la possibilità di osservare la mitzvah. Le donne hanno la priorità sugli uomini nel ricevere la carità, i parenti hanno la priorità sugli estranei, i poveri della propria comunità hanno la priorità sugli altri, e i poveri della Terra Santa hanno la priorità su tutti gli altri. Le leggi dell'ospitalità dicono che un viaggiatore senza soldi può ricevere la carità anche se è ricco e non è obbligato a restituirla. Gli ebrei senza denaro non devono essere costretti a vendere articoli per la casa per poter ricevere la carità. Non devono nemmeno essere obbligati a vendere altre proprietà se i prezzi del mercato sono inferiori al solito. Si può ingannare un uomo orgoglioso facendogli credere che sta ricevendo un prestito piuttosto che un sussidio. Gli avari, che si rifiutano di usare i propri mezzi per aiutare se stessi, dovrebbero essere ignorati. Una promessa di fare la carità deve essere mantenuta immediatamente. La comunità deve nominare Guardiani della Carità , per raccogliere e distribuire la carità. Almeno due devono raccogliere insieme e almeno tre devono decidere dove va il denaro. Decidono chi tra i poveri ha il più bisogno di carità e i poveri si registrano con loro. Questi Guardiani sono chiamati Stelle Eterne nel Talmud e sono anche più grandi dei donatori. Gli individui che lecitano la carità al di fuori di questo sistema, per esempio un medicante per strada, non devono ricevere grandi somme. Maimonide elencò otto livelli di tzedakah, estratti dal Talmud. Il livello più basso è dare un poco con una smorfia. Il secondo dare un poco con un sorriso. Il terzo dare il necessario quando ti viene chiesto Il quarto dare il necessario senza che ti sia chiesto Il quinto dare senza sapere a chi dai, ma lui ti conosce Il sesto dare sapendo a chi dai, ma lui non ti conosce Il settimo dare senza sapere a chi dai e nemmeno lui ti conosce Infine, il quinto dare è aiutare le persone ad aiutare se stesse, per esempio dando loro lavoro, prestiti, lezioni per imparare un mestiere, saggi consigli, ecc. Infatti nel Talmud di Gerusalemme, Rabbi Onà dice E' scritto nel Libro dei Salmi Felice chi considera i poveri Non è scritto felice chi dà ai poveri, ma felice chi considera i poveri Cioè felice è colui che medita come adempiere al meglio il comandamento di aiutare i poveri Si deve evitare di dipendere dalla carità Il Talmud dice Rendi il tuo Shabbat come un giorno feriale se necessario, non mangiando cibo speciale o indossando bei vestiti se non te lo puoi permettere, piuttosto che dipendere dagli altri Anche un uomo saggio e onorato dovrebbe fare lavori umili, anche scuoiare animali impuri, piuttosto che prendere la carità Ora arriviamo ai limiti della tzedakah Il Talmud dice che non si dovrebbe dare più del 20% delle nostre entrate in beneficenza Il rabbino Elai dichiarò Fu deciso a Usha che se un uomo desidera spendere generosamente per beneficenza, non dovrebbe spendere più di un quinto del suo reddito, poiché spendendo di più potrebbe trovarsi lui stesso nel bisogno Una volta accadde che un uomo voleva spendere più di un quinto, ma il suo amico non glielo permise E chi era l'amico? Rabbi Akiva Rabbi Nahman, o come alcuni dicono, Rabbi Ahabben Yaakov, disse Qual è la prova di questo nella Torah? Nella Genesi, Giacobbe disse a Dio E di tutto quello che mi darai io certamente ti darò Ti darò la decima Aser asrenu lach La ripetizione della parola aser, dare, significa che Giacobbe intendeva due decimi Il motivo è la paura che il donatore diventi povero se dona troppo. Inoltre, ci vogliono soldi per far soldi. I poveri finiscono per ottenere più soldi nel futuro se il donatore dona una più piccola percentuale ogni anno e investe saggiamente il resto. Ci sono eccezioni. Quindi, si può dare più denaro per salvare una vita, riscattare un prigioniero, sostenere gli studiosi della Torah, espiare il peccato, o, se si avvicini alla morte, fino al cinquanta per cento in più a seconda dei bisogni della famiglia. Ora possiamo affrontare il nostro versetto. Dobbiamo dare al bisognoso Dei mahsorò, tutto ciò che gli manca. Ciò significa che dobbiamo sostenerlo al livello a cui è abituato. Sono i poveri, non i donatori, a definire ciò che manca. Il Talmud racconta la storia di Hillel, il famoso rabbino, che forniva ai poveri provenienti da famiglie benestanti cavalli e servi che correvano davanti a loro, poiché questo era lo stile di vita con cui erano cresciuti. Una volta Hillel Hillel non riuscì a trovare un servo che corresse davanti al cavallo. Così gli corse davanti lui stesso per tre miglia. Il Talmud fornisce altri esempi, cito. Un tale chiese la carità al rabbino Emia. Il rabbino gli chiese, in cosa consistono di solito i tuoi pasti? L'altro rispose, di carne grassa e vino vecchio. Il rabbino gli chiese, accetteresti di vivere con me di lenticchie? L'altro acconsensì, visse con lui di lenticchie e morì. Il rabbino disse, ahimè per quest'uomo che Nehemi ha ucciso. Al contrario, avrebbe dovuto dire, ahimè per Nehemi ha ucciso quest'uomo. Tuttavia, l'uomo stesso era da biasimare perché non avrebbe dovuto indulgere in abitudini lussuose a tal punto. Un povero chiese la carità a Rava. Il rabbino gli chiese, in cosa consistono di solito i tuoi pasti? L'altro rispose, di pollo grasso e vino vecchio. Il rabbino gli chiese, non hai considerato che farti la carità sarebbe un fardello per la comunità? L'altro rispose, mangio forse quel che è loro, mangio il cibo del misericordioso Signore. Rava gli disse, vieni a mangiare. Tutto ciò presuppone ovviamente che la comunità possa permetterselo, cioè che la comunità sia in grado di mantenersi se stessa al livello a cui è abituata, prima di offrire alle persone bisognose assistenza al di là delle necessità di base. Lo Shulchan Aruch, il codice della legge ebraica, riassume, cito. Quanto dovrebbe essere dato ai poveri? Dei mahsorò asheri tutto ciò che gli manca. Cosa significa? Se sta morendo di fame, dagli da mangiare. Se ha bisogno di vestiti, vestilo. Se hai bisogno di oggetti per la sua casa, compragli quegli oggetti. Se era abituato a cavalcare con un servo che gli soccorreva davanti mentre era ricco e ora è povero, compragli il cavallo e il servo, ciascuno secondo i suoi bisogni. Se era abituato a ricevere il pane, dagli il pane. Se era abituato a ricevere la pasta, dagli la pasta. Se era abituato ad avere un letto, dagli un letto. Una persona degna di ricevere pane caldo dovrebbe continuare a ricevere il pane caldo. Se pane freddo, pane freddo. Se gli è stato dato da mangiare in bocca, dagli da mangiare in bocca. Se è venuto per sposarsi, affittagli una casa, preparagli un letto e gli utensili di casa, e trovagli una moglie. Può sembrare ingiusto dover sostenere persone bisognose a un livello superiore al nostro, ma ripensandoci, forse no. L'obiettivo qui è ridurri al minimo il dolore per tutti i sfortunati. Shabbat shalom. Grazie. 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 Grazie.